Ignazio Petrone candidato all'uninominale al Senato, Enzo Amendola capolista al proporzionale alla Camera insieme a Beatrice Di Fesca e Rocco Pergola, l'ex presidente della regione Basilicata Vito De Filippo al proporzionale al Senato seguito da Maria Teresa Prestera. Sono questi i candidati alle prossime elezioni del 25 settembre in quota PD. Nella sede di potenza del Partito Democratico alla presenza del segretario Raffaele La Regina che dopo la rinuncia alla candidatura proposta dal segretario Demme Enrico Letta ha ceduto il posto all'ex ministro e sottosegretario alla presidenza dei ministri Enzo Amendola, i candidati si sono presentati alla stampa illustrando i principali punti del programma politico. Ambiente, lavoro, mezzogiorno, servizi pubblici e combattere le destre. I nostri obiettivi sono molto chiari e anche molto semplici. Battere le peggiori destre che puntano a governare questo paese nei prossimi anni, un paese che deve essere collocato fortemente in Europa e in Occidente con una azione forte sui diritti e con un'attenzione straordinaria per il mezzogiorno. Sono tutti ingredienti che le destre che stanno animando questa campagna elettorale verso le quali noi stiamo combattendo tenacemente non hanno nelle loro corde, nei loro sentimenti più profondi. Il Partito Democratico ha tre obiettivi, ambiente, lavoro e servizi pubblici locali a partire dalla sanità. Siamo quelli che hanno negoziato a livello europeo i fondi europei. Per la Basilicata ci saranno più di 2 miliardi e mezzo nei prossimi cinque anni. Noi abbiamo progetti, abbiamo idee. Non perdiamo tempo come la Regione, come il centrodestra a livello nazionale, con parole confuse. Progetti per trasformare questa Regione, per rendere le nostre comunità più coese, per dare servizi pubblici che adesso non ci sono a partire dalla sanità e per costruire anche quel futuro di lavoro per le piccole e medie imprese di questa Regione che devono investire su un futuro che ovviamente sarà ecosostenibile.